è sempre solo la stessa cosa. Ogni giorno una donna diversa, ma è sempre solo la stessa esperienza. Questo è l'orizzonte in cui siamo, dove peraltro quella figura kirkegardiana è una figura tragica perché dice esattamente della nostra condizione il fatto che questa accelerazione, portata avanti dalle stesse logiche della produzione e della globalizzazione, impediscono il sedimentarsi della vita in forme superiori come l'esistenza etica e quella religiosa, dove per esistenza etica bisogna intendere quella caratterizzata dalla stabilità affettiva e lavorativa e la sfera religiosa quella di chi fa il salto della fede verso un assoluto che è totalmente altro rispetto al piano dell'immanenza dell'accelerazione costante. Ora la politica è totalmente in balia di questa dimensione, la politica è essa stessa prigioniera di questa dimensione della riproduzione sempre più veloce del presente stesso. Prova ne è oltretutto la tragica frase preferita di tutti i politici a destra come a sinistra, non esistono alternative, non esistono le alternative. Mi piace ricordare a questo proposito come i tedeschi che hanno il bizzarro uso di eleggere la parola più brutta dell'anno, un word, la parola più brutta che tradurremo oggi, nel 2010 hanno eletto come parola più brutta dell'anno quella in cui si compendia l'operato del cancelliere Merkel, alternative laws, senza alternative, dove appunto risuona in questa espressione, assenza di alternative, l'idea appunto di una desertificazione integrale delle prospettive, l'idea di una situazione totalmente aprospettica che non ha altra speranza da contrapporre al presente sempre più completamente peccaminoso, il presente sempre più coartato a riprodurre se stesso e il proprio non senso. Per cui l'auspicio che bisogna fare alla politica e ai politici è quello di rioccupare progettualmente il futuro, riscoprire il futuro, cioè ripercorrere, potremmo dire, la strada che aveva caratterizzato ogni latitudine la modernità.